Aiden, tornare in campo da titolare davanti ai tuoi tifosi e tornare alla vittoria, penso che più di così sinceramente era fatica chiedere alla vigilia. Questa esperienza è stata bellissima, non posso dire come mi sento dopo questo, il pubblico, la squadra, come abbiamo giocato, è stato perfetto per me. Sei contento della tua prestazione? Sì, molto contento, sì. Hai qualche persona, insomma tu arrivi da un anno praticamente di inattività dopo l'esperienza comunque con la nazionale quest'estate, hai qualche persona da dedicare a questa vittoria? Soprattutto la gente from the shoulder team, Foglio Riccione, Elisa, Doccio Pociolini che ha fatto l'intervento e tutti i fisiologi, tutta la gente che ha lavorato per me quest'estate, tutti di loro. Battere Cuno comunque vuol dire che Verona ha una squadra di un certo tipo, insomma avete battuto una formazione con un valore in campo abbastanza importante di questo campionato. Durante questa battita abbiamo dimostrato il nostro livello e dobbiamo continuare così, con questa base. Secondo te dove può arrivare questa calcedonia? Andiamo per il top, primo, dobbiamo guardare per primo.